Cerchiamo di capire insieme quale sia la miglior build che si possa realizzare oggi, anche cercando un pochettino di sfruttare quelle che siano le eventuali offerte del Prime Day, ma rimane valido un po' a 360 gradi. Diciamo che la maggior parte dei ragionamenti fruiscono di quelli che sono i cali di prezzi dell'evento, però di per sé potete farla tutto l'anno e fondamentalmente usando offerte quella che vi mettiamo per esempio nei canali Telegram potreste riuscire a ottenere più o meno lo stesso prezzo. Ad ogni modo, vediamo un pochettino di partire. Ovviamente, essendo in argomento build, è doveroso ricordarvi del nostro configuratore, che abbiamo appena aggiornato, vi permette di realizzare una build con un budget qualsiasi da 600 a 3.000 euro nell'ambito del gaming, da 1.500 a 3.000 nell'ambito dell'editing, fino a 800 nell'ambito dell'ufficio, e vi propone semplicemente la miglior combinazione possibile di componenti adoperando quel budget che gli date e poi potete anche eventualmente personalizzare quella che è l'interessa della build, scegliendo per esempio il colore, il four factor, esprimendo una preferenza per quanto riguarda il produttore di CPU o della GPU. E infine abbiamo aggiunto anche delle nuove cose, come per esempio la capacità della RAM, la capacità degli SSD, la possibilità di scegliere tra dissipatore ad aria o a liquido, e infine altre cosine, come per esempio la possibilità di includere o meno nel budget un monitor e la pasta termica. Oltre a questo vi ricordo che troverete incluso in tutte le nuove build anche appunto un monitor sopra il vostro budget, qualora vi serva un suggerimento sappiate che c'è anche questa nuova opzione. Quindi il link per il nostro configuratore lo troverete giù in descrizione. Adesso vediamo un pochettino di analizzare quali sono le possibilità di una build sensata e bilanciata in questo fine 2024. La prima cosa da dire ragazzi è che gli eventi di Amazon iniziano ad avere veramente poco contesto per l'hardware, c'è sempre qualcosina, ma più che altro quello su cui si va a risparmiare sono principalmente le componenti di contorno, come dissipatori, case, ssd, periferiche, monitor e cose del genere che appunto contestino comunque il loro prezzo abituale in maniera significativa. Quindi togliamo subito l'elefante nella stanza, schede video e cpu. Allora, per il contesto attuale secondo me alla fine di questo 2024 ci sono un pochettino di problemi. Intel Core Ultra 200s non è assolutamente una selezione valida, i loro prezzi sono ancora molto alti, richiedono una piattaforma piuttosto costosa, onestamente non è un qualcosa che realizzerei in questo fine 2024. Dall'altra parte abbiamo AMD che ha rilasciato di recente la serie 9000, onestamente per il contesto del gaming non offrono niente di che se non per il nuovo campione, 9800X3D, che però al momento ha dei prezzi veramente esorbitanti perché la sua richiesta è altissima, quindi di per sé non è proprio il momento migliore per comprarli. E lo stesso si può dire anche per il 7800X3D, il suo fratellino minore, che onestamente mantiene delle ottime, ottime prestazioni, però al momento attuale supera i 500€, comunque ci si avvicina spesso, quindi di per sé non è che garantisca questo gran rapporto qualità-prezzo. Pertanto per AMD secondo me le opzioni rimaste che sono tuttora valide sono i due piccolini, ovvero il Ryzen 5 7600 e 7600X e il Ryzen 7 7700 e 7700X. Prestazionalmente questi due processori sono molto molto simili, specialmente per il contesto del single core. Balla un 3-5% nel migliore dei casi, 1080p, che poi si annichilisce salendo con la risoluzione. Quindi di per sé uno un po' vale l'altro, a meno che non giochiate a titoli come gli strategici o che comunque facciano un largo utilizzo degli 8 core del 7700. Ad ogni modo, dal lato di AMD ci sono questi due. Onestamente, entrambe buone scelte e diciamoci più che altro che la differenza di prezzo tra il 7700X e il 7800X3D in questo momento è talmente ampia che non giustificherebbe nemmeno un 30% di vantaggio da parte della versione X3D. Cioè, stiamo parlando di un incremento di oltre il 50% del prezzo rispetto al 7700X e 7700. Personalmente, al momento, non è un processore che consiglierei attivamente, a meno che non si abbiano budget esorbitanti tipo 2300 o 2500€, in cui, insomma, le altre componenti si trovino comodamente e alla fine si possa un pochettino spendere di più sul processore per garantirsi un vantaggio a lunghissimo termine. Ma per il resto dei consumatori che giochino a 144 FPS, il 7700X e il 7600 andranno benissimo. Intel, invece, con le vecchie generazioni, sicuramente è molto competitivo sul prezzo. L'unica cosa da valutare è che vi servirà, a meno che non li limitiate artificialmente dal BIOS, un dissipatore un pochettino più ingente, tipo un 280, è quello che consiglierei per le versioni K. Se no, di per sé, comunque, stiamo parlando di un'offerta di processori con quella di Intel delle vecchie generazioni che rimane valida, assolutamente. Però, al tempo stesso, c'è ancora l'alone di questo problema dei crash e soprattutto state comprando quella che si può ampiamente definire una piattaforma morta, ovvero qualcosa su cui poi non farete mai più upgrade. Mentre dal loro lato, banalmente, le schede madri di AMD ancora ci garantiranno un'ultima generazione che dovrebbe essere Zen 6, che onestamente potrebbe valer la pena di aspettare. Quindi questo è per le CPU. Dal lato delle schede madri che ci si abbinano, onestamente, ragazzi, per il 7600 e 7700X io vi raccomando, come al solito, le B650, a meno che non abbiate delle esigenze particolari che vi spingano a volere un SSD 5.0 se magari fate produttività di alto livello e siete particolarmente avessi all'utilizzo di questo tipo di velocità di trasferimento interna del vostro computer. Però, per il resto, onestamente, la B650 è una piattaforma che rende felice tanti, tanti, tanti gamer, quindi di per sé va benissimo. La cosa che vi dico è che durante eventi come questo magari esce qualche B650 in offerta, ma onestamente i prezzi attuali di questa piattaforma sono talmente bassi che trovate sotto i 175-200€ la maggior parte delle piattaforme che vi possano servire. Banalmente MSI con le B650, Tomahawk Gaming Plus e altri modelli analoghi offre una buonissima base per creare una build e onestamente non vedo particolari limitazioni al riguardo, quindi io vi indirezzerei verso di quelle. Se trovate qualcosa in offerta, chiaramente, prendetelo, però vi dico che i prezzi ormai sono più o meno quelli, quindi non penso che scendano più di tanto, a meno che proprio non vogliate scendere verso cose come la B650S o comunque schede madri un bel po' più scoperte e ci possono anche stare, onestamente, ma va un po' in base alle vostre preferenze. Stesso discorso per le RAM, ragazzi. Le DDR5 ormai si sono attestate a dei prezzi abbastanza bassi, ci sono un po' di DDR5 in offerta in questo momento, quindi di per sé vi dico che anche se andasse in offerta qualcosina sulle DDR5, principalmente l'offerta delle Viper in questo momento, è talmente bassa come prezzi che non è che l'evento vi dia un riscontro così significativo da dire, wow, cambio tutto, devo assolutamente prenderlo a Black Friday. Siamo sempre sulla fascia dei 95, 120 euro per un buon kit di RAM 6000 MHz CL30, che sono praticamente lo sweet spot per il 90% di processori in questo momento, con qualche incremento prestazionale su Intel fino ai 7200 MHz, ma niente di pazzesco, ecco. SSD. Invece in questo caso diciamo che gli eventi influiscono molto positivamente su questo tipo di componenti, banalmente ritorna sempre il classico SK Pynex P41 Platinum, in questo caso durante l'evento c'è la versione da 1TB, se non è già finita quando pubblico questo video, spero che sopravviva a 13 ore. Ad ogni modo stiamo parlando di un SSD che in questo momento valga la pena prendere, visto che scende a 86,99 che rispetto al suo prezzo abituale è piuttosto invitante. Vi dico, è un SSD di ottima qualità, io lo utilizzo in più di 5 build, le test bench e tutto quanto, zero fallimenti, sta molto bene, fresco, è un 4.0, ha la D-Rank Cash, onestamente svolge bene tutto quello che deve fare, personalmente ve lo consiglio sia nel taglio da 1TB. In questo momento non ho visibilità sull'offerta di 2TB, ma qualora ci andasse come al solito, sotto i 140€ è un ottimo prezzo. Altra componente che sicuramente influisce in maniera positiva sono i case, perché a tutti gli effetti abbiamo Corsair ed NZXT, per esempio, che abbassano spesso i loro prodotti a quelli che sono più che altro i loro prezzi promozionali, cioè ormai sono anni che il 4000D agli eventi scende verso gli 85-80€ nelle due colorazioni bianco e nero e onestamente un sacco di gente se li porta a casa perché comunque sono dei case esteticamente molto belli, hanno la loro qualità costruttiva discreta, fanno quello che devono, sono degli ATX, onestamente a tanta gente piacciono, hanno il loro supportino per i radiatori in top, non ci entra un 360mm, però di per sé, per la maggior parte dei gamer, accomoda quelle che sono diverse necessità, quindi di per sé Corsair con i 4000D Airflow fa quello che deve, ricordatevi soltanto che ci dovete aggiungere delle ventole. Parlando invece di NZXT, in questo evento hanno scontato praticamente di 10€ la loro intera line-up dei case più recenti, quelli che vi consiglio in particolare sono l'H6 Flow, che ho trovato a 99€, che è la versione acquario del H7, onestamente è un case che ho trovato interessante, l'ho anche recensito, ha qualche piccola pecca, come al solito in diversi case di NZXT, però onestamente è un case valido, quindi di per sé se vi piace l'argomento degli acquari e vi piace questo minimal di NZXT, è assolutamente una componente da valutare. In alternativa, l'H7 Flow. L'H7 Flow 2024 è diventato veramente un ottimo case, ha il supporto da 360mm in top per quanto riguarda il radiatore, onestamente è un case molto molto completo, attualmente l'ho trovato anche adesso in sconto di 10€, non è uno sconto assurdo, però togliendo qui, togliendo lì, magari a un certo punto vi potenziate la scheda video da una 7800XT a una 4070, super banalmente, quindi può essere qualcosa che vi permette di andare su uno scalino più alto. Argomento alimentatori, MSI, anche qui qualche ribassino, niente di particolarmente eccitante, tra il 5% e il 15% nei migliori dei casi, però di per sé sappiamo che più che altro quello che è interessante degli alimentatori è la disponibilità, visto che negli ultimi due anni fondamentalmente ogni volta che esce un buon alimentatore al suo prezzo corretto sparisce nell'arco di 10 minuti, quindi di per sé avere una larga disponibilità è un prezzo leggermente migliore, ma anche qui vi ripeto, non è l'offerta del secolo, questi eventi iniziano a scarseggiare un pochettino su queste cose, è interessante. Da una parte abbiamo l'MSI A850GL, che semplicemente scende intorno ai 102€, niente di che rispetto al prezzo abituale, P6-5, onestamente vi risparmiate 5€, niente di assurdo. Leggermente migliore lo sconto sull'A650GL, in questo caso non P6-5, che scende da 86,90€ a 74€, mentre per la fascia dei più economici, i bronze, abbiamo l'A550BN e l'A650BN, che hanno uno sconto veramente risicato di soltanto qualche euro, di per sé se ve li stavate già adocchiando vi risparmiate quel 5% risicato, non vi cambia praticamente niente, vi comprate 20 goleador con la differenza. In alternativa, se state puntando a una build ITX, Corsair sconta il suo classico SF850L, un ottimo alimentatore ITX con PCI 5.0, ATX 3.0 come standard, onestamente è un prodotto più che valido, quindi di per sé 129€ è un prezzo interessante, diciamo che in tempi normali costerebbe meno di 99€, però sappiamo qual è la situazione attuale. Parlando di dissipatori, ragazzi, chiaramente nella parte di Intel, se scegliamo banalmente le vecchie generazioni, come vi dicevo prima, io punterei a dissipatori da almeno 280mm, se non 360, per riuscire a ridurre il rumore. In questo momento non c'è niente in offerta di particolare, se ci fosse ve lo linko in descrizione o in generale ve l'abbiamo messo sicuramente nei canali Telegram. Di per sé c'è Corsair, ma onestamente i prezzi non è che siano così invitanti da dire vi dico, guardate, prendete questo, domani non troverete più questa offerta, sono offerte abbastanza banali. Quindi per Intel o comunque per la massima silenziosità i miei consigli sono sempre di andare verso i 280mm di dissipatori come i liquid freezer, qualora il vostro case ovviamente sia compatibile, perché hanno uno spessore del radiatore particolarmente ampio. Purtroppo la dipartita di Deepcool è un qualcosa che ha lasciato il mercato privo di un bel po' di opzioni, ma le alternative quali sono? Purtroppo l'ambito dei 280mm tende ad avere soltanto questi qui nella zona della fascia bassa, che onestamente è un peccato visto che i 280mm alla fine non sono stazionalmente troppo lontani dai 360 e si possono installare in numero maggiore di case. In ogni caso le mie alternative qui rimangono i sempreverdi Thermalright, in questo caso non esistono in taglio da 280mm purtroppo, ma soltanto da 240 o da 360. Qualora abbiate un case compatibile come banalmente l'H6 Flow che abbiamo visto prima o l'H7 Flow, effettivamente possono essere delle ottime soluzioni per risparmiare un pochino, avere comunque degli RGB o un'estetica più semplice, però di per sé vi portate a casa dei buoni dissipatori con un budget ridotto, quindi decisamente validi. Onestamente anche qui le offerte non riusciranno mai a pareggiare i prezzi di Thermalright, palesemente non avendo un forte marketing riescono a permettersi di scalare un pochettino l'economia del dissipatore in sé, poi essendo produttori in prima persona riescono un attimino a avere dei prezzi migliori, quindi è un po' inutile consigliarvi delle offerte in questo caso perché le offerte sono principalmente su brand come Corsair o NZXT che se volete prendete, però di per sé spendere 180€ per un dissipatore da 360mm quando ce n'è un altro a 80€ tutto l'anno dipende dalle proprie esigenze e preferenze. Ovviamente Corsair ha un'estetica migliore, ha l'ecosistema IQ e tutto quanto, varia molto su quello, l'argomento è completamente personale. Infine ragazzi arriviamo alle schede video, ora come saprete stanno arrivando le RTX 50, le RX 8000, il CS dietro l'angolo e tutte queste argomentazioni, quindi di per sé il mio consiglio è di non comprare più la fascia alta, ovvero 4080 Super e 4090 più che altro. I prezzi sulle 7900 XT e XTX si stanno abbassando abbastanza, nel senso che adesso la top di gamma di AMD si trova comodamente sotto i 1000€, quindi di per sé quelle possono rimanere delle opzioni valide, più che altro perché a meno che AMD non bersagli quella fascia con delle nuove schede da 500€ o 600€ a gennaio, difficilmente vedremo dei sostituti insomma particolarmente invitanti a breve termine. Quindi potete valutarli, ma il mio consiglio in generale è di attestarsi sulla fascia medio alta, ovvero quella occupata dalle 7700 XT, 7800 XT, 7900 GRE e 4070 Super, al massimo 4070T Super se trovata ad un buon buon prezzo, e accompagnata dalla 4070T che è letteralmente uguale. Quindi di per sé queste 5 schede video possono essere dei candidati ideali, però vi dico non andrei sotto perché onestamente la fascia bassa in questo momento ha tolto qualche prezzo carino verso la fascia bassa bassa tipo le Intel Arc, onestamente latita gli stessi prezzi da un po' quindi non ha senso parlarne, e invece la fascia alta verrà a breve rimpolpata diciamo entro 2-3 mesi, quindi potrebbe essere in questo momento uno spreco comprare una scheda video di fascia alta, a meno che ovviamente non ce ne freghi proprio niente della novità, e non vogliamo stare lì a guardare il mercato e compriamo e basta. Allora in quel caso avete la mia benedizione, comprate quello che volete, magari non una 4090T, ecco. Concetto finale, vi lascio ovviamente giù in descrizione le build da 1300, 1400, 1500 e 1600€ che potete comprare in questo momento e che secondo me sono quelle più sensate, fatte con le componenti di cui vi ho appena parlato. C'è qualche sconticino del Black Friday, però devo essere onesto, il vero modo per risparmiare il Black Friday ormai è puntare le periferiche, puntare gli SSD, un po' i case, qualche dissipatore, ma non a questo giro perché onestamente non c'è stato granché, e soprattutto i monitor. I monitor sono la cosa che viene scontata maggiormente, cioè l'impatto reale sul complesso del nostro ecosistema del setup, anche fuori dal PC, è dato da queste componenti. Risparmi sul mouse, sulle cuffie, sulla tastiera, sul monitor, sull'SSD, sul case, sul dissipatorino e sei a posto. Diciamo che queste qui sono le cose principali. Poi sul resto, semplicemente reinvesti e paghi praticamente lo stesso prezzo che c'è un po' tutto l'anno. Ormai la filosofia è questa. Non sto lì a dirvi che ci sono delle offerte pazzesche, per me la cosa più sensata è semplicemente fare informazione. Quindi di per sé, questo è quanto vi consiglio in questo momento, che è un po' anche quello che vi ho consigliato onestamente negli ultimi mesi. Detto questo, per questo video è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.